Ma l'hai disegnato tu? Sì, l'ho disegnato io sull'iPad, l'ho vato stampare Nooo, è la cosa più bella del mondo Guarda, è la cosa più bella del mondo Ma sei un grande Ma io ti voglio bene un casino, ma è bellissimo Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzogli E voi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube Se invece ci state ascoltando su Spotify, c'è la campanella Mi raccomando, la campanellina, così non vi perdete nessuno degli episodi Delle puntate, degli incontri, delle chiacchierate che stiamo facendo qui Come sempre sono molto contento perché ci stanno venendo a trovare amici Guarda, la cosa di cui posso essere più orgoglioso sono le persone che stanno venendo a Passa dal Basement Perché hanno, insomma, tutto è qualcosa di speciale In questo caso sono anche molto stilose perché oggi è venuto a trovarci Ed è passato dal Basement Simone Barlam Attenzione, primo colpo di scena La pronuncia esatta del cognome di Simo è Barlam In esclusiva In esclusiva Allora, segnatevela Quando al TG1 diranno Ha vinto la medaglia d'oro Simone Barlam No, è no, è no, è no, è no Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, grazie Tra l'altro mi fa senso essere introdotto non per i miei meriti medaglia ma per lo stile Ma per lo stile Incredibile Ma certo, anche perché la cosa bella a cui io tengo tanto è ok parlare dello sport in sé, della performance, della gara Ma una delle robe che poi appassiona tutti e che poi fa proprio da game changer sul movimento è quando si va, si arriva a parlare di altro Quando magari un atleta riesce a raccontarsi, a raccontare delle altre cose che poi ti rendono uno di noi, diciamo, una cosa di questo genere E adesso per chi ci sta solo ascoltando si perde lo swag, però hai una maglia incredibile di Ice Cube anni 90, pazzesca Sì, di Good Day, canzone anche lì fantastica, un cappellino senza visiera Cappellino non banale, cappellino senza visiera Sembrano quelle, non so se hai visto, su TikTok ci sono i feed check che fanno il video dove devi dire Quanto costa il mio outfit Quanto costa il mio outfit, esatto, quelle robe lì In questo caso no, era solo per sottolineare che comunque è una cosa che a te piace Sì, sì, comunque te lo dicevo prima Noi nuotatori siamo abituati a essere sempre mezzi nudi, con la cuffia, gli occhialini, in costume Quindi ogni tanto se si può rendere belli al di fuori della vasca fa sempre piacere Anche perché mediamente il fisico del nuotatore è bello No, sicuro, esatto E quindi anche vestito, diciamo, fa ancora poi più stile È successo nel nuoto come nell'NBA, nel basket ormai, di cui so che tu sei grande appassionato E poi ci arriviamo Però ormai in NBA uno dei momenti più importanti, oltre alla partita, forse in alcuni momenti anche più della partita È il momento dell'arrivo Cioè ogni giocatore, da Lebron James in giù, arrivano con un outfit incredibile Perché c'è il momento, quando scendi dal pullman oppure quando entri nell'arena Che c'è la sfilata sostanzialmente Tu hai un momento, c'è quel momento anche nel mondo del nuoto? Sì, cioè mi piacerebbe che quel momento sia grande come l'NBA Perché spesso nelle gare internazionali si è tutti vestiti con la divisa nazionale Quindi è un po' più difficile personalizzare Però ci sono vari trofei o comunque gare e coppe del mondo Dove ci possiamo sbizzarire per esempio con le scarpe, con le calze Un po' quello su cui si può sbizzarirsi di più, maglie O per esempio io agli ultimi mondiali Entravo in vasca con una ciabatta a forma di squalo Quelle che appaiono ovunque su Instagram Per fare un po' di personalizzazione Anche lì però è difficile ma in un modo o nell'altro si riesce a fare Però d'altronde questa roba qui la può fare magari un atleta come nel tuo caso Tu di che anno sei? 2000 Del 2000 Quindi sei giovanissimo e di conseguenza sei anche attento a queste cose L'altra cosa interessante è che te ci siamo conosciuti La prima volta fuori dal forum durante la partita dell'Italia Italia-Grecia quindi partita molto attesa con Nelson che ci ha presentati Ed avevamo appena girato tra l'altro e passa dal basement con Nelson qui Arrivavamo dal basement E poi invece prima te l'ho chiesto perché non ero sicuro fossi tu Al concerto degli Swedish House Mafia Ma non nelle tribune Eravamo tutti nel pogo in mezzo Anche lì è bello così Se devi andare a un concerto bisogna goderselo dalla vera esperienza Nel fogo, nella folla Io ho sempre amato anche la musica elettronica E poi musica hip hop e rap Però in questo caso più musica elettronica Però non ero mai stato a un concerto Il mio compagno nazionale Alberto Modeo Che lui ha fatto 80 artisti in giro per il mondo Un pazzo È un ragazzo amputato in serie a rotelle Che si fa sollevare Poga Senza problemi Si fa cacciare dalla security Un concerto si l'altro pure Però mi ha fatto rinascere un po' questa passione E anche lì abbiamo Infatti al concerto degli Swedish eri con la sedia Si ero con la sedia perché comunque stare in piedi per tanto tempo Diciamo non è Io fuori dall'acqua sono un pigrone Perciò un po' mi aiuta Ogni tanto si salta Appogare tutto Però stare con la sedia Specialmente poi nei festival Nei concerti anche no Però nei festival che durano tutta la giornata Aiuta Anche perché appunto Simone Barlam Atleta Paralimpico Con quante robe hai vinto ad oggi? Si gira a chiedere aiuto Non se lo ricorda No ho vinto a Tokyo le Paralimpiadi Quattro medaglie Un oro, due argenti e un bronzo Agli ultimi mondiali che sono stati Quest'anno a luglio Ho vinto sei ori Con quattro record del mondo E due record europei Perciò qualcosina Cazzo Record del mondo in cosa in particolare? Record del mondo nel 50 100 stile libero 100 d'orso E nella staffetta 4% stile libero E il tuo Proprio il tuo Diciamo Il tuo stile Cioè quello proprio Su cui sei il più forte? Stile libero d'orso Io sono nato come velocista Sui 50 e sui 100 stile E la parte Un po' masochista Difficile del game Anche se non è alla fine Un gioco Ecco il mio allenatore È cercare di aggiungere Sempre più specialità Perciò Abbiamo giunto il 400 Che è quasi mezzo fondo Il delfino Prima o poi si arriverà Magari misti E diventa sempre più complicato Perché Devi preparare sempre più robe Devi abituare il tuo corpo A fare cose completamente diverse Dal 50 Che è come i 100 metri Nell'atletica Al 400 stile libero Che è Non una maratona ovviamente Però è uno sforzo Più prolungato Fibre diverse E questo è Da un lato più divertente Lo rende più Avvincente Però è anche molto più complicato Tra l'altro tu fisicamente Potresti essere anche un giocatore di basket Perché sei alto Grosso Leve lunghe Infatti c'è questa tua foto Che gira Molto bella Dove allarghi Le braccia Stile la foto Wings Quella di Michael Jordan Però anche stile Perché io quando la vedo velocemente Non so se ti passi nel timeline Molto simile anche a quella di Phelps Phelps aveva fatto qualcosa Di questo genere Lui l'aveva fatta con le medaglie Con gli ori olimpici Perciò Ancora ce n'è di strada Per arrivare a quel livello Però comunque Con le medaglie internazionali Che ho vinto Ho due metri e otto Di apertura alare Perciò ci stavano tanto E dietro Mario Due metri e otto Di apertura alare Mi devo mantenere Se tu fai così adesso Due volte Spazzi via tutto Esatto Poi rompo il soffitto E tra l'altro Anche la cosa divertente Che appunto Parlavamo del poter essere Un giocatore di basket Fisicamente potrei Anche perché mi hanno Per un anno Io ho una dismetria Tra le gambe Ho una gamba più corta dell'altra Un po' come Nemo Con la pinna La pinna trofica E mi hanno accorciato Un anno La crescita della gamba sana Diciamo Per far sì che la dismetria Non diventasse troppo difficile Come si fa a accorciare la crescita? Mettono delle piccole viti Dei ferri Dentro la cartilagine Del crescimento Io infatti ho tre cicatrici Sul ginocchio E bloccano quella parte Della gamba Crescere per un anno Poi quelle viti Vengono assorbite Automaticamente dal corpo E infatti Per previsione medica Sarei dovuto essere Due metri e uno Di altezza Sono comunque 1,92 Perci non è che sono basso Però il fisico c'è Ma A parte che sono un po' esile Per il basket E poi sono scarsissimo Tu saresti arrivato Ipoteticamente ai due metri Due metri e uno Con due metri e otto Di apertura all'area Sì Perciò comunque Il fisico c'è Sono un po' sproporzionato Infatti La tua Diciamo La tua La tua disabilità È questa Giusto? È quella dell'avere Una gamba più corta Dell'altra E ci sei nato? Sono nato È in pratica È una roba congenta Quindi non è Né ereditaria Né un incidente E quindi È stata un po' sfortunata Il mio crescere Perché io sono nato Con questa malformazione Che tecnicamente Si chiama Ipoplasia del femore E coxavara Ovvero Ipoplasia del femore L'ipoplasia è quando Un osso Un arto Non si sviluppa completamente Perciò rimane A uno stato infantile Rimane un po' sottosviluppato Coxavara Significa che La testa del femore Invece che essere 110 gradi L'angolo è un po' più su Tipo Tante Qualcosa così E fatto sta che Ero anche podalico Già con questa malformazione Il medico ha cercato di girarmi Ha fratturato quella gamba Mentre ero nel pancione Di mia mamma Che era già Un po' Diciamo malformata di suo Quindi questo ha aggravato Già la situazione E tutto quanto Ai dieci giorni di vita Ho fatto il mio primo intervento chirurgico Cavolo Da lì ne sono arrivati 12 Ne sono seguiti 12 Fino ai 13 anni di vita Perché la mia gamba Inizialmente Bastava camminarci sopra E si spezzava il femore Bastava appoggiare un po' più di peso E si spezzava Infatti è anche per questo Che l'acqua mi ha sempre aiutato A poter fare attività fisica Perché comunque è un ambiente Che ti sostiene E ti permette di muoverti Senza gravare troppo Sulle articolazioni degli arti inferiori In questo caso Però sulle spalle Grava un po' E tecnicamente nella vita di tutti i giorni Questo è un ostacolo grande? No Poi conoscendo molti altri ragazzi con disabilità Ci sono condizioni che rendono molto più difficile il quotidiano Per me alla fine la cosa faticosa Cammino con una protesi che è come un tacco enorme Esatto Come un tre piedi E questa protesi dove si inserisce? No È come un Diciamo avvolge la mia gamba La mia gamba vera E poi sotto c'è un prolungarsi del piede Diciamo Perciò un piede finto Sotto il mio piede vero Ah ok È un po' Come un Non so Un calzare Se così si può dire Ok Un avvolgi di gamba Che ti dà spessore Per poter arrivare ad avere un pareggio E anche lì ho dovuto fare appunto molti di questi interventi Per far sì che la gamba diventasse abbastanza stabile E alla fine oltre camminare molto e stare in piedi tanto tempo Per fortuna non mi diciamo mette troppe difficoltà nella quotidianità Chiaro No adesso questo poi il tema anche delle parole o limpiadi È venuto a trovarci anche Bebe che so che conosci bene Che insomma è un tema anche che abbiamo affrontato E anche il percorso di come poi arrivi Lei ad esempio mi raccontava che già faceva scherma E poi questa roba qua nel senso poi è ritornata a farla E gli ha dato una spinta in più Tu invece ad esempio sei nato con questa patologia Si può dire patologia no? Tutti gli effetti Sì sì assolutamente E come è stato il tuo percorso? È stato bene o male anche col fatto che fuori dall'acqua Cioè nella terraferma mi sono sempre sentito un po' goffo Un po' maldestro Poi crescendo comunque specialmente nell'adolescenza Di imparare a gestire il tuo corpo e tutto L'acqua invece mi dava sensazioni completamente diverse Mi sentivo agile, mi sentivo aggraziato, veloce Cioè in acqua ti sentivi come tutti gli altri sostanzialmente? Sì esatto, esatto, facevo il corso con i bambini con due gambe e due braccia E li battevo, a volte loro mi battevano E quindi mi ha dato sempre questa libertà Che è anche una sensazione che nella disabilità è ricorrente Perché di solito siamo legati a una sedia a rotelle O una protesi e tutto In acqua sei solo tu e il tuo corpo Che è una cosa molto rara da sentire come sensazione Una cosa che leggevo che mi aveva colpito Anche del tuo modo di affrontare tutto questo È che non volevi fare corsi diversi Non volevi fare cose diverse Ma hai sempre cercato e voluto fare cose tutte insieme agli altri Esatto L'acqua, che è un elemento che in qualche modo quasi pareggia tutte le situazioni Ti permetterebbe anche di competere con i normodotati? Sì, se ci sono i tempi e in determinati contesti Si può fare Io ho fatto anche un ritiro qualche mese fa con la nazionale di fondo Perciò con Greg, con Dario Verani, Domenica Cerenza Ed è stato molto divertente Perché vabbè, in mare A parte che era un mese e mezzo che ero in vacanza Quindi ero fuori forma In mare mi sono venuto a ripescare Perché ero capone Io sono abituato alla vasca È certo Una roba diversa Però in vasca ci si divertiva A volte vincevano loro, a volte vincevo io Ed è anche questo il bello comunque Che spesso non si realizza nello sport paralimpico Alla fine il contesto è uguale C'è solo un modo di affrontarlo Per esempio nel basket in carrozzina Il canestro è alto uguale al basket regolare C'è solo un modo diverso di giocare Nel nuoto la piscina è uguale 50 metri Il profondo è uguale L'acqua è la stessa Ed è un po' il bello anche Avere questa occasione di scambio tra atleti Paralimpici e Olimpici Che secondo me fa molto bene a entrambi i movimenti Beh diventa Cioè lo sport su queste cose qua è incredibile Perché ti unisce Ti dà motivazione Ti dà una voglia di fare E quando hai capito che tu avresti potuto farlo diventare la tua professione? Nel 2017 E che i tempi pian piano stavano migliorando E in pratica quell'anno era un po' complicato Perché io a giugno sarei dovuto partire per l'Australia Perché ho fatto lì il quarto anno di liceo all'estero E a maggio era l'ultima occasione buona per qualificarsi per il mondiale Che sarebbe venuto a ottobre dello stesso anno E lì sono riuscito a qualificarmi Nell'ultimo giorno di gare Il CT che chiedeva al mio allenatore Ma questo? Ma ce la fa? Non ce la fa? Non mi convince? Lui fa tranquillo, con pazienza che arriverà E lì sono riuscito a qualificarmi per il mondiale Battendo gente che in Italia Che fino a pochi mesi prima pensavo, credo, è imbattibile Adesso sono loro che poi vengono a chiedere consigli a me però Bella questa roba, è una gran soddisfazione Come mai hai fatto questa cosa dell'Australia? Perché sin da piccolino volevo migliorare la mia conoscenza dell'inglese E anche vivere un'esperienza A facciarmi con una quotidianità diversa E la scelta stava solo nel capire dove Inghilterra, America, Australia Il mio allenatore che è stato molto tempo in Australia Conoscendomi ha detto che il modo di vivere australiano sarebbe stato perfetto con me Infatti ci avevo preso un modo di vivere molto tranquillo La domenica prendo, vado a surfare Grigliate Una roba che mi è piaciuta tanto E' stato difficilissimo le prime settimane Perché è arrivato lì Questo ragazzino di 17 anni Gente con una famiglia che non conosci Tutti parlano una lingua diversa da tua E' impegnato Io sono stato tutto un pomeriggio a piangere in camera Di cosa ho fatto Poi man mano che vai avanti non vuoi più tornare C'è un'esperienza fantastica Che è una figata Beh lì sì Credo che poi L'inglese credo che tu poi l'abbia anche imparato meglio Invece com'è il rapporto? Hai notato diversità nella gente Per quanto riguarda l'approccio con il mondo paralimpico Comunque con la disabilità Sì forse in Australia Per certi punti di vista erano e sono più avanti Perché comunque anche lì hanno Bisogna partire dal presupposto che hanno una cultura dello sport Completamente diversa dalla nostra E quindi anche a scuola ho sentito Fortunatamente non è stato il mio caso Ma molti colleghi, atleti in Italia Che sono stati un po' ostacolati per questa loro passione In Italia Mentre in Australia è quasi l'opposto Non dico che viene avvantaggiato Però cercano in ogni modo di aiutarti E anche nel discorso di atleti paralimpici Sono visti come atleti punto e basta Ed è una cosa che in Italia Adesso pian piano sta migliorando Ma dove fino a qualche anno fa in Italia Venivi reso conosciuto per la storia strappalacrime E non per quello che hai fatto Nonostante tutto Faccio sempre questo esempio Se un ragazzo fa un incidente E perde la gamba Però con una gamba poi decide di scalare l'Everest Dobbiamo concentrarci sul fatto che abbia scalato l'Everest con una gamba Non sul fatto che abbia fatto un incidente Che era anche al di fuori Non è una cosa che ha deciso lui Certo E quindi secondo me bisogna focalizzarsi su cosa ha fatto l'atleta E in Australia secondo me questa cosa avviene di più Che in Italia Adesso ovviamente anche grazie ai nostri successi sta cambiando la roba Sì quello sì A me è sempre Conosco diversi ragazzi E poi giocatori anche di basket in carrozzina Come con Giulio Con Giulio Con il grande jolly E una cosa che di lui Io poi ho provato diverse volte Il basket in carrozzina Secondo me è anche molto divertente Da provare E a giocare Però una cosa che a lui gli dava molto fastidio Era nel caso della sconfitta Che sui giornali magari Bravi lo stesso Oppure c'era questa sorta di Compassione O pietismo Quando in realtà No se abbiamo perso Bastonaci come bastoni tutti gli altri Eccetera Qual è la cosa che a te invece fa più incazzare Legato magari a questa sfera Usti Se ti è capitato qualcosa che ti ha dato fastidio A voi Anche a me questo pietismo Questa compassione Dà molto fastidio E spesso anche quando Non viene dato peso Ai nostri risultati Dai media Poi ovvio Per esempio Quando parliamo dei giornali Non c'è neanche da dare la colpa a nessuno Perché loro Il mondo del giornalismo Pian piano sta sempre Facendo più fatica A vendere giornali Perché nessuno li compra più Nessuno li legge E quindi di non cercare Tra calcio Le roba che fa più notizia La roba che più gente vuole leggere Però c'era stato Mi ricordo Al Sette Colli del 2020 Un trofeo di nuoto Qualche anno fa Dove in tre giorni Ho fatto tre record del mondo E c'era un riquadretto minuscolo Nella pagina Un giornale molto conosciuto in Italia Chissà quale Chissà quale E quella roba Mi ha fatto un po' arrabbiare Infatti poi Avevo E tra l'altro le nostre gare Non erano state neanche trasmesse In tv e tutto Mi ero fatto fare un'intervista Da chi trasmetteva le gare E mi ero un po' incazzato Su questa roba E ci sta Perché comunque è una roba Che sta crescendo E sta cambiando Però anche gli ultimi mondiali Che abbiamo fatto Mentre i mondiali del 2019 A Londra Sono stati seguitissimi in Italia Con diretta Giornali Giornalisti lì Inviati Ed è stato fighissimo Quest'anno in Portogallo La Rai Ci ha trasmesso Un po' più indifferita E anche lì Non posso dare la colpa a nessuno Perché c'è il pari in sesso Ci sono vari programmi Di qualcuno sarà la colpa Perché poi parli Parli con un appassionato di basket Che quindi queste cose Diciamo che chi non segue il calcio Io seguo anche il calcio Mi piace anche quello Figurati Però Tu prima hai detto una cosa importante È la cultura sportiva Che è quella cosa Che probabilmente Manca In Italia Che però sta nascendo in altre cose In senso sui media tradizionali Come dicevi anche tu prima Si stanno aggrappando a tutto Pur di far parlare di sé O eccetera Però oggi Se tu invece hai Internet e il web Allora ti becchia anche un'ora di chiacchierata Tra me e te In cui parliamo di tutta un'altra cosa E c'è tanta gente che la sta ascoltando E che quella cosa gli piace Quindi la gente che vuole seguire le cose C'è E non capisco perché Invece Il media tradizionale Deve per forza Inseguire Adesso mi fa impazzire Perché ogni volta che succede Un evento sportivo Molto importante Che non sia di calcio Sotto le pagine Instagram Dei vari giornali Scrivono sempre Voglio vedere se domani adesso Non mettete in copertina questo Non mettete in copertina quest'altro Perché ormai tutti si aspettano Che ci sia sempre la solita La solita roba Quindi prima o poi Quella cosa lì Cambierà E anche loro si arrenderanno Che c'è un pubblico Per ogni sport Poi ci sono degli sport Molto più seguiti E degli sport meno seguiti Ma non hai detto che tu Che sei appassionato Cioè che sei un nuotatore Quindi appassionato di nuoto Non vai a vedere Non vedi Il basket Ci siamo beccati L'abbiamo detto A vedere l'Italia Come ha una partita di calcio Come vai a provare Delle altre cose Questa è una roba incredibile E i ragazzi più giovani Che sto facendo Che sto facendo questa cosa Cioè io sono partito Con questo problema Anche no Che poteva sembrare Un grande ostacolo Invece adesso è diventata La mia risorsa Che mi permette di fare Delle cose Che forse non avrei potuto fare No Cioè assolutamente Infatti è Stupro Cioè Mind blowing Come direbbero in inglese Anche lì Il fatto delle diverse passioni Secondo me è anche una cosa Che può aiutare Anche nella performance Perché poi Se sei con la testa Sempre sullo sport Dai di matto Cioè devi comunque distrarti Anche se è una cazzata La passione Giocare alla play All'xbox Cose così E Quando mi guardo indietro È assurdo Quello che sto facendo Perché gente Che guardavo in televisione Che ritenevo idoli Adesso sono miei amici Ci iscriviamo Usciamo Anche Qualche Qualche giorno fa Sono stato invitato Da Armani Alla cena Al convivio Che è una roba Che se me l'avessero detto Sei anni fa Ma sei matto Ma cosa ti sei fumato C'è una roba assurda Oppure anche Che ne so Jimbo Tamberi Che vedevo saltare tutto Adesso è un mio amico E lo conosco molto bene Ed è bello Perché poi Anche qui Nel modo di raccontare Del basket O del nuoto Si vede Che ne so La foto Del campione Dei anni 90 Con un piccolo bambino Che poi diventerà Una roba assurda Secondo me È fighissimo O anche C'era anche Phelps Con la foto Con la piccola Che ti le decchi Che poi crescendo Sono unitati compagni nazionali Ha fatto la sua ultima Olimpiade assieme Ed è bello Perché comunque Anch'io Mi immagino Che quando Un bambino Una bambina davanti Non sai mai Chi potrà diventare Perciò Devi cercare sempre Di essere positivo E di ispirare il prossimo Cioè non è Anche poi In questa società In cui siamo adesso Dove ognuno cerca Di portare solo acqua Al proprio ruscello È giusto Cercare di Diffondere Secondo me Questa positività Assolutamente Sì perché porta Solo delle cose Buone Hai citato Phelps A me è capitato Di incontrare Phelps Un po' di anni fa Ad una cena Io avevo il tavolo A fianco il suo Però non riuscivo A non smettere Di vedere Cosa faceva lui Stava ancora Gareggiava In quel periodo E ho notato Quello che ha mangiato E ha mangiato Come un porco Nel senso Tantissimo Sì sì Immagino Che anche tu In realtà Ovviamente È un fisico Blah 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 Però con quello Che bruci Io credo che anche tu Ti dia da fare A tavolo Cioè qual è La tua alimentazione Diciamo A pasto 450 500 grammi di pasta Se ne vanno Quando sono in massimo Carico Infatti Il problema è poi Quando non ci si allena Perché io Dopo Tokyo Che anche lì Mangiavo come un bue Ma continuavo a perdere peso Per gli allenamenti Mi allenavo 12 volte a settimana Più 4 in palestra Quindi era una roba che Nonostante mangiassi Continuavo a perdere peso Il problema è quando Smetti di allenarti Infatti Dopo Tokyo Siamo anche andati in vacanza Con due amici in Sicilia Ho preso tipo In tre settimane 10 chili 9 chili Perché poi Ormai lo stomaco È abituato a mangiare Determinato Quindi hai fame Ho fame E solo che poi Non bruciando Rimane tutto là La tua giornata tipo Com'è? Adesso la giornata tipo Solitamente Mi sveglio intorno alle 7 6 e mezza 6 e mezza 7 Faccio colazione Mi alleno dalle 8 alle 10 Primo allenamento in vasca Poi torno a casa Ti alzi Dopo quanto sei in vasca? Un'oretta e mezza Dopo un'oretta Boom Sei in acqua Perché io sono terribile a svegliarmi Non sono una morning person Sto lì mezz'ora A mo' di mummia Sul letto A svegliarmi Mezz'oretta Poi sono in vasca Le mie due ore di allenamento Al mattino Torno a casa Vedo qualche lezione universitaria Studio un po' Mi rilasso Secondo degli impegni Che ho quel giorno Poi alle 5 Ingegneria meccanica Una roba così Per il tempo libero Si lasciamo stare Va bene Poi dalle 5 alle 7 Sono in palestra No dalle 5 alle 6 Scusami Sono in palestra E dalle 6 alle 8 Sono ancora in acqua E questa è la giornata tipo Ok E la sera? La sera Se sono distrutto Beh come la maggior parte delle sere Torno a casa E con l'assi Faccio una preghiera Esatto Se no se ho la forza Per uscire con gli amici E tutto Che è anche una cosa Che poi Ho riguadagnato col tempo Il fatto che nonostante Tu sia stanco Comunque uscire con gli amici Infatti Avevo sentito che Avevi un po' accusato il colpo Quando hai preparato Alcune gare Quando hai preparato Tokyo Quando hai preparato Tokyo Ti eri ecclissato dalla vita Per poterti dedicare Solo ed esclusivamente All'allenamento Esatto Beh è una cosa Secondo me Che abbiamo vissuto in tanti Poi durante il periodo del covid Del lockdown Tutti sono diventati Un po' ipocondrizi Diciamo Secondo me Io avevo paura del contagio E quindi di non poter partire E con Diciamo La premura Di fare Tutto alla perfezione Avevo tralasciato La parte più importante Secondo me Che era la mia salute mentale Praticamente Poi con la mia psicologa Dello sport Sono riuscito Tramite un percorso A tornare con quel sorriso Che mi ha sempre caratterizzato Che ho un po' perso Però Stavo pensando A mangiare tutto il giusto Dormire le ore giuste Perché così Il fisico è posto Eccetera Ma alla fine Il fisico è solo il mezzo L'atleta è la testa Cioè la testa Il pilota è la testa Quindi Io C'erano momenti in cui fisicamente Stavo da dio Una condizione mai raggiunta Però ho fatto gare di merda E in momenti in cui Non ero a postissimo Ma di testa Ero in un good place Ero alla grande E potevi essere chiunque E ti passavo davanti E ti battevo Col turbo Esatto Hai citato una figura Che ormai è abbastanza Sdoganata anche in Italia Ma pur sempre un tabù Che è la psicologa Dello sport Sì Conosco diversi atleti Che però non lo dicono pubblicamente Che sono seguiti Da una psicologa Dello sport Che non è una motivatrice Cosa fa la psicologa Dello sport Nel caso di un atleta Molte cose Dipende Può aiutarti a visualizzare La gara Prima di farla Così facendo Poi diventa un automatismo E non pensi neanche più Alla gara Sai già quello che devi fare Oppure può aiutarti A gestire determinate situazioni Determinati momenti d'ansia La mia psicologa Mi aiutava Mandandomi degli audio Delle robe Rilassanti e tutto A tornare un po' In un luogo positivo Immaginarmi Delle determinate immagini Che possono Quando sono in ansia Stanco O anche Possono aiutarmi A conciliare il sonno Una cosa tipo proprio Simone Adesso Immagina di essere In un posto Anche un po' Anche un po' Con i gabbiani In sottofondo Al mare che scorre Però sì No però serve Cioè Aiuta un sacco Perché è una figura Appunto Importante E che adesso In generale Anche tutto l'argomento Della salute mentale Un po' più Se ne parla un po' Un po' di più Però ancora resta Quasi una Una debolezza Per alcuni atleti Dirlo Invece è una cosa Molto molto utile Sì Sì E soprattutto Per vivere Quella pressione Che avete Che avete voi E la psicologa Dello sport C'è a prescindere Dal discorso Paralimpico Della disabilità Perché parlo Di atleti Di qualsiasi sport Qualsiasi disciplina Nel tuo caso Secondo te Deve avere Un'accortezza in più Un'attenzione in più O Secondo me Dipende dall'atleta Nel mio caso No Perché Comunque le mie insicurezze Le robe su cui Mi hanno lavorato Non riguardavano La mia disabilità Non riguardavano Il me come persona Forse Ci può essere Che ci siano casi Specialmente Nei ragazzi Un po' più giovani Che tendono A nascondere La propria disabilità E non sono ancora Al cento per cento Ok con il proprio corpo E in quel caso Secondo me Può anche aiutare In quell'ambito Molto Ti è mai capitato Allora Una cosa Che mi colpisce Anche poi Del mondo paralimpico Che a differenza Magari Dell'olimpiadi classiche Dove si è Tutti A parità Di condizione fisica Diciamo Poi in base All'allenamento Quello cambia tutto Ma si parte Da una base Più o meno simile Almeno magari Qualcuno Geneticamente Più avvantaggiato O altro Invece nel mondo Delle disabilità Ognuno poi Ha una disabilità Diversa Tipo nella Nella pallacanestro In carrozzina Ci sono dei punteggi Anche che vengono Perché magari Giustamente Una ha una disabilità Un po' più grave Dell'altro E quindi Ci sono delle differenze Di valori Succede questa cosa Anche nella tua disciplina O è Sì 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 Succede In tutti gli sport Paralimpici Bene o male C'è questo che viene Chiamato Le classificazioni Perché Il mondo Della disabilità È enorme E non si può Dividere Ogni evento Per condizioni Di disabilità Perché se no Ci sarebbero Una miriade Di gare Non si finirebbe più Quindi nel caso Del nuoto Si accorpano Disabilità Similari Cioè disabilità Che impattano In un modo simile Nella nuotata E poi il nuoto È ancora forse Un po' più delicato Perché essendo solo tu E il tuo corpo È molto complicato In pratica Come funziona da noi Le classi Come le definiscono Vanno da S1 A S14 E S sta per swimming Ovviamente S1 S10 Sono per la disabilità fisica Dove S1 È la disabilità fisica Più impattante E l'S10 Quella meno impattante Io sono un S9 Che è una disabilità impattante Ma non così tanto Diciamo S11 per gli atleti non vedenti S12 S13 per gli atleti ipovedenti S14 per gli atleti Con disabilità intellettivo-relazionali Ok E infatti Si può Puoi vedere Nelle mie gare Io gareggio con gente Con una putazione al braccio Comunque con disabilità Agli arti superiori E questo Nonostante Siamo in condizioni diverse È perché Se loro sono avvantaggiati Nel tuffo Nell'apnea Io poi sono avvantaggiato Nella nuotata Cioè si bilancia E quindi si bilancia un po' E il tutto avviene La valutazione Prima con una visita Sul lettino Da un medico Che prende il punteggio Di un corpo Di un normo dotato E a seconda Dei tuoi deficit Dei tuoi impairment Ti toglie Tot punti O al braccio O alla gamba Eccetera eccetera Poi A seconda di quanti punti hai Vedono in che slot Di classe Appartieni Ok Dopo aver fatto ciò C'è un Un'altra persona Che ti guarda in acqua Fa una visita in acqua Ti chiede di fare Determinate cose Per capire appunto Se confermare o ribaltare Se confermare o cambiare La classe che ti era stata data Ed è molto complicato Ed è in questo ambito Che un po' Purtroppo è Il lato buio Dello sportuale olimpico Che si può essere Il doping Quindi persone Che fingono Disabilità un po' più gravi Rispetto a quello Che hanno Per poi essere avvantaggiate Con condizioni più gravi In gara Quindi ci sono anche Di questi Di questi casi Purtroppo sì Che da un lato Vuol dire che Si sta prendendo Molto seriamente Anche il fatto Di gareggiare tutto Fino ad arrivare A trovare un muro Per barare Però dall'altra parte Rovina uno sport Un movimento Che ha tutt'altra funzione Come Claudio Bisio In benvenuti al sud Che si fingeva invadido Sulla sedia rotella Pervisamente si alzava In piedi Una truffa Una truffa A tutti gli effetti Perché poi il doping È chiaramente Una truffa Cosa vuol dire Fare le olimpiadi Tu come lo spieghi a Io credo che Quella è la più grande Espressione di sport Sì no assolutamente È una roba che Realizzi pienamente Solo dopo Mentre sei lì Sei preso La mille pensieri Domani devo fare questa gara Devo andare lì Devo riposarmi Eccetera eccetera Era una cosa Veramente più grande di te Sei lì Nel raggio di Tre chilometri Con il meglio Dello sport mondiale Cioè con la creme Della creme Dello sport mondiale E siete tutti lì Alla fine Alla ricerca Della stessa roba Di una medaglia Che è solo L'oggetto Ma non è Cioè Significa molto di più Che solo un pezzo di Di oro Argento E bronzo Anche perché vivi Per quel momento lì Che arriva una volta Ogni quattro anni Esatto E poi quando sei lì Neanche Non dico che non ci dai Tanto peso Ma neanche te ne accorgi Cioè Vivi quattro anni Pensando a come sarà Quel momento E poi arrivi lì E spesso Molti atleti Ti manco si ricordano La gara perché erano talmente Dentro il flow Delle cose Che si ricordano Il secondo prima di partire E il secondo dopo Essere arrivati Qual è l'aneddoto La cosa più particolare Che ti ricordi Del tuo periodo Di quei giorni Purtroppo Diciamo col fatto Del covid E tutto Non siamo riusciti A fare i mega festoni Post come si fa Solitamente Però mi ricordo L'ultimo giorno Prima della partenza Noi del nuoto Avevamo finito le gare E c'erano in 100 metri Di Ambra Sabatini Di Martina Caironi E Monica Contrafatto Perciò Con dei miei compagni Di squadra Ci siamo detti Andiamo a vedere L'atletica Però Non possiamo mica Andare a mani vuote Siamo andati Nel negozietto Del villaggio Paralimpico E abbiamo comprato Tutti i snack possibili Immaginabili Ma robe anche terribili Uova di quaglia Sottaceta Una roba E poi gli di robe strane Da mangiare Cracker ai gamberi E diciamo Siamo andati Sì è una roba assurda Siamo andati Perciò Nell'ossale dell'atletica Con sto borsone Pieno di roba Ci siamo messi Ad assaggiare Uno più disolustoso Dell'altro Se ne saranno salvati due Però Ma tu avevi già fatto Tutto quello che dovevi fare Sì sì per fortuna L'avevo già fatto No 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 Non potevi rischiare Ci mancherebbe No poi Dopo le gare Specialmente due giorni dopo Solitamente Si fa schifo In un modo Assurdo A questo punto ti togli Lo sfizio Io mi ricordo di volte In cui Siamo finiti Con dei ragazzi portoghesi Tipo alle tre del mattino A mangiare una pizza Al mais Avanzata Alle neozelandesi Fuori da un casino Roba assurde Roba da fine serata Proprio Proprio brusca Esatto Tanto per proposito Di Olimpiadi E di Basement Che qui è pieno di Lego Io ti ho visto un po' Fissare alcuni pezzi Salutiamo gli amici di Lego Che nel caso delle Olimpiadi Vi hanno fatto Delle medaglie Fatte di Lego Sì sì Bella Bellissimo Io ho visto infatti Nelle storie Di un'altra Mia compagnia di squadra Ma queste medaglie Te le sei fatte tete No me le ha mandate Lego Penso arriveranno anche a te Due giorni dopo Mi sono arrivate Le mie quattro medaglie di Tokyo Horror Cioè le stesse che tu hai preso Te le hanno fatte in versione Ed è una cosa geniale secondo me Beh cacchio bravissimo Cioè bellissimo Infatti le custodisco Mentre le medaglie vere sono in un posto sicuro Diciamo Certo Le medaglie di Lego sono lì appese in camera Le guardo ogni giorno È bellissimo Bello Questo però vedi Essere sul pezzo Soprattutto aver considerazione Di quello che hai fatto Dell'impresa Mi ci rilego Io non ho vinto le medaglie Però se volete mandarmi una medaglia Allo stesso Io ho la medaglia della vita Facciamo così Però vedi Sono quelle attenzioni In più Quali sono state le attenzioni Che hai ricevuto E che hanno fatto tanto piacere Dopo le Olimpiadi Non so Andare ospite da qualche parte O qualcuno in particolare Che ti ha fatto i compiti Dopo i mondiali Dopo i miei mondiali del 2019 Aver ricevuto l'Ambrogino d'oro Dalla città di Milano È stato un bel riconoscimento Che bello l'Ambrogino d'oro Infatti il sindaco Poi Beppe Sala Che è un patato d'uomo Un patato d'uomo Un patato d'uomo Che forse Domani titolo di giornale Sindaco Beppe Sala Patato d'uomo Però vuol dire che è una bella persona Una bellissima persona Molto attenta Infatti anche dopo Tokyo Ci ha invitato me Un altro mio compagno Nel suo ufficio Per fare una chiacchierata Neanche Infatti arrivo lì Mi aspettavo magari fotografi Fare foto Tutto No Solo sedente Vi chiacchieriamo Ci aveva tirato fuori una bandiera Per farcela autografare Ed è stata molto molto bella Anche lì Che bello Questo è una cosa che non ti aspetti E dato che adesso con i social Arrivano tutti a tutti In qualche modo I DM di Simone Parlam Come sono? Sono impegnativi? Sono impegnativi Infatti ogni tanto Voglio leggere le richieste E' molto divertente Ce n'è una che mi è rimasta impressa Dove questo ragazzo mi scrive Anche perché è uno dei miei Io dico delle mie medaglie più importanti L'anno scorso sono stato inserito Nella top 10 bonazzi di gay.it Ed è una roba incredibile Se arrivi lì Arrivi poi dappertutto Cioè Se arrivi a Insomma essere Top 10 bonazzi dell'anno E ho detto Cazzo Non pensavo Tanta roba Tanta roba Infatti c'era sto ragazzo Adesso non vorrei dire Ma secondo me Il sindaco Sala ti ha chiamato Anche per questo Anche per quello Al dia dell'Olimpiadi Comunque è una cosa Di cui vantarsi Però Esatto Esatto No infatti c'era sto ragazzo Che mi ha scritto E diceva una roba come Simone Tu mi fai sognare ad occhia Aperti Sei bello come un dio greco Come Un poeta Come vedi la tua La celebrità anche Di lati negativi Piace anche agli uomini Ho detto ma come Lati negativi Ci manca Bello cacchio Mi fa piacere Più attestato di stima Di un uomo Non ce n'è Da quel punto Da quel punto di vista Un luogo divertente I DM I DM sono un luogo divertente E il DM che non ti aspetti Al là di questo Di qualche personaggio Che ti ha scritto Complimenti Mi aveva scritto Sì Mi aveva scritto Richard Htt Uno youtuber Che Disegna Disegna Infatti c'era questa passione Del disegno Che ci accomunava Io lo seguivo Sin da piccolino E tutto Un giorno ho detto Ho visto la mia puntata Di Muschio Selvaggio Ma questo mi segue Lo seguo Iscrivo Infatti è nata un'amicizia Poi abbiamo fatto dei video Insieme Eccetera Eccetera Infatti tu col mondo Essendo Insomma Perché poi è tutta un'altra cosa Adesso gli atleti giovani Di oggi Hanno comunque tutti Dei riferimenti Magari diversi Rispetto a E quindi c'è anche Tutto il mondo di YouTube E tu come lo vivi Il mondo di YouTube Del web in generale C'è un mondo Molto Molto bello Con il quale sono cresciuto E adesso anche lì Entrare bene o male A far parte Conoscere comunque Gente che tempo fa Non dico idoli Però comunque Rispettavo per quello che facevano E anche lì Abbastanza assurdo Chi è che sei Chi è che segui Su YouTube Ah su YouTube Vabbè A parte molti canali di disegno C'è Più su Twitch Forse Dario Moccia Che comunque Lì parla di fumetti Di disegno Che mi appassiona molto Poi su YouTube Vari podcast Ok Specialmente quelli su Spotify Me li ascolto lì E mi faccio tenere compagnia Se no più di Pi Più sull'America Multiplayer A seconda di Cosa Cosa mi va Sul pezzo Il disegno è quando nasce Questa passione Il disegno Nasce da In uno dei mille Mila interventi Che ho fatto da piccolino Dove Ero ingessato Da petto in giù E non potevo Far niente Perciò come Avrò avuto forse Otto anni Qualcosa così Nove anni Giocavo a Nintendo DS Certo Era Sarà stata l'una di notte Non riuscivo a dormire Mi ero messo a giocare Al Nintendo DS Ed ero sempre più Preso dal gioco Fatto sta che Ero talmente preso Che i miei battiti Sono saliti Davvero In un modo Cioè assurdo È partito un allarme Non so come In tutto il reparto C'erano infermiere Che correvano Oddio questo sta male Sta male C'era sto bambino Che giocava al Nintendo DS Così E perciò me l'hanno confiscato Ovviamente Me l'hanno confiscato Cioè era diventato Un Uno strumento pericoloso Esatto Infatti me l'hanno confiscato E ho dovuto trovare Un hobby più tranquillo E di lì è nata La mia passione Con il disegno Sì 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 Beh che figa Cosa disegni Ti so Tutto ora Ti fermi Di tanto disegnare Assolutamente Io da piccolino Disegniamo squali Creature Dinosauri Robbe da bambino Poi mi sono un po' Passato all'anatomia Poli All'anatomia Ciao politica All'anatomia umana Anche Un po' Di tutto e di più Poi tra l'altro Mario Posso chiedere Ho fatto tra l'altro Di disegno Un pensierino Per il Ma davvero Ma sei pazzo Che spero ti piaccia Tira fuori Ma sei pazzo Fresco fresco Di stampa Vediamo se Qual bello della diretta Ma l'hai disegnato tu? Sì disegnato io Sull'iPad Te lo vado stampare No È la cosa più bella Del mondo Guarda È la cosa più bella Ma sei un grande Ma io ti voglio bene Un casino Ma è bellissimo Questo lo appendiamo Sicuro In cornice Qua appunto La roba di Space Jam Ho visto che hai doppiato Space Jam 2 Gli occhi un po' Alla Dragon Ball Si l'inqua spiritato L'occhio on fire Spiritato Le scarpe Poi per i tatuaggi Le madonne Che ho tirato Perché devo cercare la foto Con i tuoi tatuaggi Ma sono tutti giusti Guardali Questo è giusto E niente Questo è un pensierino Ti giuro mi sto commuovendo È bellissimo Che tu abbia pensato A questa cosa E che l'abbia fatto In cornice Sicuro Me lo devi firmare Chiaramente me lo devi firmare Molto volentieri Ma sei un grande Bellissimo Poi dopo faccio del timelapse Nel caso Hai proprio tutto Vedi che sei sul pezzo Ragazzi Ma è una cosa bellissima Grazie Grazie davvero Un pensiero Super mega bello Perché poi hai portato La solita cuffia da nuoto Però ho detto No Al gazzi Portiamo qualcosa di più bello Ma è vero Questa è classicone La cuffia da nuoto Facciamo vedere Che serve sempre la cuffia Esatto Se vai in piscina e tutto Sai Vado più veloce con questa Sì dai Questo è uno stimolo A tornare a nuotare Perché io vabbè Ho iniziato nuotando Perché era tra gli sport Che facevo da piccolo E lo sport che sto cercando Di far fare da piccolo Subito alle mie figlie Perché Sembra una stronzata Ma è uno sport completo Sì ma poi è anche importante Comunque per la loro sicurezza Saper stare in acqua No ma poi subito A pochi mesi Rachele Non so se era quattro mesi Vai subito Ti portano subito A fare piscina E l'ha aiutata tantissimo A essere poi portata Per gli altri Per gli altri sport Io ho fatto un periodo In cui avevo ripreso La cosa E qua ti chiedo un consiglio Cosa pensi Quando stai nuotando Cioè Mentre sulla corsa Mi faccio molto distrarre Da quello che vedo intorno Nonostante che la corsa Rispetto magari Al basket O ad altri sport Sei comunque molto concentrato Su quella roba lì Nel nuoto Quando tu stai in vasca Due ore Tre ore Eccetera Che cosa pensi E lì che devi essere Forte di testa Assolutamente Dipende molto Secondo me Dal tipo di allenamento Perché se ci sono allenamenti Un po' più lunghi Aerobici Un po' più noiosi Spesso la testa Si va a trasportare Da millemila pensieri Cioè Veramente pensi A Anche Conversazioni molto profonde Con te stesso Mentre ci sono allenamenti Più sulla velocità Sul VO2 Doveri essere concentratissimo Sulla tecnica E quindi pensi A millemila robe A come inserire il braccio Alla posizione della testa Al corpo Quando respirare Quante bracciate mi mancano Devo gestire di più qua Per poi dare di più Nella parte dopo Dell'allenamento Perciò Man mano che ti conosci Sai bene a cosa pensare Tecnicamente O come performance Quindi sei molto concentrato Sulla prestazione La testa non se ne va La maggior parte delle volte No Sei concentrato lì E sempre sul discorso Del cosa pensi Prima appunto hai detto Che hai fatto un sacco Di interventi Nel corso della tua Mi ha colpito In un'intervista Hai detto Finalmente ho preso più medaglie Degli interventi Che ho fatto Quando hai superato i 12 Ma cosa pensa Un ragazzino Che deve affrontare Tutta quella roba lì Senza sapere In quel momento Che tu un giorno Comunque vincerai Delle medaglie d'oro E che avrai Quel tipo di soddisfazione In quel momento Sei solo un ragazzo Che a differenza O un bambino Che a differenza Degli altri bambini È in un ospedale In gessato Lì come Ma a parte Ovviamente La paura fottuta Prima dell'intervento Che è un po' In ogni caso C'è sempre quella Paura Che ti addormenti Poi ti operano E tutto Fortunatamente Il fatto di essere stato Anche così giovane Mi ha permesso Di vivere il tutto Con più leggerezza Perciò Di vedere sempre Il positivo in tutto Vedevo Chiacchieravo con chi era In sala All'ospedale con me Cercavo di distrarmi Sempre col sorriso Però è una cosa Che comunque Ti fa crescere In un modo diverso Dai tuoi coetani Perché mentre loro Sono fuori lì Appunto come dicevi A giocare calcetto A correre insieme Tu sei lì O in ospedale Tutto Ma anche lì Sono stato molto fortunato Perché Quasi tutti Le persone con cui Sono cresciuto Specialmente a piccolino All'elementari Mi hanno sempre Trattato Normalmente Che sembra una cosa Con niente di speciale Ma che per un Ragazzo con disabilità È un lusso Che specialmente Fino a qualche anno fa Era un lusso raro Però anche grazie Alla tua storia E a tante cose Che fai tu E fai tanti Non tanti Ma con alcuni Tuoi colleghi Con la roba Sicuramente starà Aiutando qualcuno Che in questo momento È in ospedale Che dice Cazzo però Anch'io posso Se voglio Mi aveva colpito Che tante volte Quando capita Nel tuo caso No perché È una patologia Con cui sei cresciuto Però Quando hai un incidente Quando ti succede qualcosa Poi vengono in ospedale A parlarti Quelli che si occupano Magari di questi sport O di alcune discipline In particolare Per farti capire Che ok Adesso sei così Però se vuoi Ti reclutiamo È chiaro E c'è un'altra storia C'è un'altra roba Da scrivere In l'Ucraina Che è sempre stata Una delle potenze Mondiali Del mondo paralimpico È da anni Che fa così Nelle cliniche Di riabilitazione Tutto Chiunque subisca Un incidente Una patologia Viene indirizzata A uno sport E infatti lì Hanno dei numeri pazzeschi Sono penso Tra le prime tre nazioni Al mondo Per medaglieri In tutti gli sport Alle paralimpiadi Ed è pian piano Una cosa che sta Venendo anche qui Perché lì veramente Hanno un numero Di atleti Assurdi Ma non dico adesso Ce l'hanno da vent'anni Da trent'anni E invece con tutto il mondo Dei social Che frequenti Che usi Eccetera Tu sei molto attivo Sul tuo Fai cose Il tuo canale YouTube Ce l'hai? No non ce l'ho Devo farlo Ma per forza Devo farlo Devo farlo Cioè se ti piace quel mondo Comunque Vedevo l'altro giorno Ho visto che anche Jamorant Un giocatore di basket Fortissimo Un giovanissimo Ha il suo canale YouTube Dove racconta La sua settimana Ovviamente Fa montare ad altri Infatti lo trovo Un montatore Però volentieri Se lo fai Con la tua personalità Con il carisma Le passioni Perché poi è tutta una roba Di passioni Sai in quanti Eh non sarebbe male Diamo un altro impegno Diamo un altro impegno Diamo un altro impegno Potremmo guarda Sfruttiamo Che io Al dicembre Partirò per l'Australia Dopo quattro anni Per tornare Sfruttiamo quell'occasione lì Per fare il primo video Per sfornare il primo video Poi voglio venire ospite Sul tuo canale Per forza Dobbiamo fare una roba per forza E in Australia torni a far cosa? Niente A rivedere tutti Sì Cioè mi allenerò Gareggerò anche lì Però per rivedere tutti i miei amici Tu lì non torni Da quando sei andato da ragazzino? Dal 2018 Ma dai? Infatti io me l'ho ripromesso Di tornare dopo Tokyo Ma poi tra lockdown E robe Non sono riuscito E adesso finalmente E chi vai a ritrovare? Chi è la prima persona Che vai a vedere Appena sei tornato in Australia? La mia host mom Come si dice La signora che mi ha ospitato lì Ma mi ha permesso di crescere Mi ha cazziato Ma mi ha aiutato E tutto Poi ovviamente Tutti i miei amici Compagni di squadra Che zona dove eri? Ero vicino a Sydney Trenta minuti nell'entroterra Da Sydney Castle Hill Che però lì tipo Quei trenta minuti Può voler dire Non so Da una città A una campagna Sì sì Quello sì Esatto Cioè dal nulla Alla città di Sydney Ma per loro Un'altra cosa Che mi ha cambiato l'Australia È la percezione delle distanze Trenta minuti Per loro è una roba Mi fa Vado a trovare mia figlia Vieni anche tu E qua dietro l'angolo Faccio È tutto talmente grande Sì infatti Tu sei nato dove? A Milano A Milano Sì 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 Sono nato a Milano Milanese doc E da lì l'Ambrogine No adesso sei il milanese Comunque sei Cioè aspetta Metto la cuffia Voglio vedere come stava E tu sei Perché questo è imbarazzo Di noi non nuotatori Che quando andiamo in piscina Dobbiamo mettere la cuffia per forza È un imbarazzo È così? La scritta È contrario Il sponsorino va davanti Il logo di Giorgio Lo metti Giorgio Madonna ragazzi È bella stretta Madonna È perfetta Perfetta Anche tu le facce Io quando metto gli occhialini Lingua fuori Così per far entrare bene L'aderenza Va bene ragazzi Perfetto Pronto Direi che sono pronto A entrare in vasca Comunque sei bravissimo E comunque sei bravissimo anche a disegnare Questa roba è incredibile Aspettiamo il canale YouTube Ti riaspetto qui al basement Quando vuoi Questa casa aspetta a te E ti ringrazio un sacco Per essere passato Grazie mille Sei un figo Simo E persone come te Con questo entusiasmo Che va oltre lo sport stesso Aiutano tutti Quindi Tanta roba Grazie Hai visto che abbiamo usato anche l'effetto Esatto Che mancava Si vuole Barlam Ricordate La pronuncia esatta